Euro Regione.news Aquileia scoperta e da scoprire Guardare con gli occhi ma aprire la mente per godere dei ritrovamenti e anche delle visioni immaginarie Nella guida curata da Elena Commessatti c'è arte, storia, letteratura e tutto quanto ci accompagna in una visita approfondita grazie alla Regione e alla Fondazione Aquileia con il presidente Roberto Corciulo Aquileia è un laboratorio a cielo aperto o come bene dice la nostra scrittrice è un'araba fenice che si rinnova nel tempo e questa è la storia di Aquileia che di fatti si rinnova il nostro compito in questo caso come Fondazione Aquileia è quello di aiutare ad accelerare il percorso di crescita di questo bellissimo territorio noi abbiamo tanti progetti, abbiamo cantierato quest'anno oltre 8 milioni di lavori quindi un impatto importante abbiamo tutta una serie di progetti chiaramente anche poi per il supporto al turismo culturale uno di questi è la presentazione della guida che facciamo oggi qui ad Aquileia che abbiamo già presentato anche a livello nazionale a turisma ed è un grande onore, un grande orgoglio poterla presentare in questo bellissimo contesto del museo che è una delle perle di questo bellissimo territorio la prima guida è degli anni 20, l'ha scritta Giovanni Battista Brusin e dedico il mio lavoro a lui ed era cento anni fa in cento anni tante cose sono successe questa è una guida che accorpa il sacro e profano dai mosaici splendidi del IV secolo paleocristiani a una laicità anche di vita nel senso che uno va a mangiarsi la gran seola noi spieghiamo dove si può andare a mangiare la gran seola dove si può bere del vino buono dove si può andare camminando con un turismo lento e consapevole e contemporanea siamo in un contesto meraviglioso che è il museo archeologico nazionale è uno dei pochi musei con i reperti trovati in loco cioè questo museo è costruito solo sui reperti che si trovano nel sottosuolo Aquileia ha l'oro è un progetto turistico da intraprendere già intrapreso insieme a Fondazione Aquileia a Promoturismo a tutte le persone che hanno lavorato insieme a me perché è un libro corale ed è dedicato anche ai 3000 abitanti che abitano qui perché insieme a loro abbiamo creato un racconto nuovo noi abbiamo un progetto molto ambizioso di scavi perché oggi la Fondazione Aquileia ha ricevuto in conferimento dal Ministero della Cultura, della Superintendenza abbiamo in gestione 22 ettari la città si estendeva su 90 ettari dentro le mura e altri 30-40 ettari fuori le mura quindi c'è un patrimonio ancora pazzesco da scoprire è chiaro che questo implica risorse, implica persone noi collaboriamo con 5 università del nord-est quindi tutte le principali quindi Trieste, Udine, Padova, Venezia, Verona con cui abbiamo convenzioni per lo scavo che noi finanziamo per supportare gli scavi e per ampliare quindi questo è un po' il programma che ci siamo dati come CDA di accelerare gli scavi di avere un percorso non solo estivo dove vengono gli studenti che tra l'altro è uno dei modi migliori per i ragazzi che studiano archeologia per imparare il loro mestiere mettere le mani nella terra e questo meccanismo noi però vogliamo che venga ampliato a più mesi l'anno per permettere di accelerare questa fase di scavo e quindi da lì arrivare poi a mettere a sistema meglio il tutto in questo momento devo dire che il progetto principale su cui stiamo lavorando perché chiaramente tutto questo è collegato alla soprintendenza e a tutto il percorso che facciamo con loro però il grande progetto sarà che speriamo di varare già entro l'anno sarà quello del collegamento est-ovest ovvero dal porto quindi la valorizzazione della situazione del porto è il collegamento verso la Ratiagalla e che arriverà poi al sepolcreto abbiamo fatto anche delle acquisizioni mirate per fare un percorso circolare per permettere appunto di vedere tutte queste aree che oggi tecnicamente sono poco accessibili però è un percorso come dico che abbiamo chiaro e che la fondazione ha gli strumenti e la forza per far questo tant'è che anche quando è venuto il 20 marzo il nuovo ministro a fare la visita qui abbiamo condiviso un percorso che è condiviso anche chiaramente con la Regione per accelerare questa situazione perché chiaramente Aquileia è un qualcosa di unico che abbiamo è un qualcosa a livello europeo unico per quello che abbiamo il museo ha la più importante collezione nel mondo d'Ambra abbiamo il più grande mosaico dell'Occidente quindi abbiamo tutta una serie di unicità su cui noi dobbiamo lavorare per il bene della Regione e di tutto il Nord-Est da Aquileia per Euroregione News Marco Mascioli Euroregione.news Grazie a tutti